Mantello si rinnova e mette mano alle strade e alle valli del paese. Le opere, previste nel piccolo centro della bassa valle, tra Dubino e Traona, affacciato da un lato sulla via Valeriana e dall'altro sotto l'ombra delle Alpi Retiche, sono iniziate nella primavera del 2015 con l'installazione di un impianto di videosorveglianza e l'asfaltatura nuovo della strada per la frazione ovest di Ferzonico, dove la realizzazione di un nuovo marciapiede completerà il programma di interventi attualmente previsto nella località. Ma, spiega il giovane sindaco Giacomo Bonetti, i lavori proseguiranno almeno per tutto l'inverno. Abbiamo appena concluso i lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza che ci permette di monitorare alcuni punti chiave del nostro territorio, dalla rotatoria alle piazze. Abbiamo in corso, in fase di conclusione, dei lavori di sistemazione e pulizia delle valli, lavori che puntualmente con la protezione civile ogni anno facciamo, ma questo ci permette di fare un intervento più sostanzioso di circa 60 mila euro su tutte le valli. Abbiamo in procinto di partenza i lavori di riqualificazione di Via Pregesa, che è parte del nostro nucleo storico del centro città. È un lavoro che ci permetterà di offrire ai cittadini, oltre che a una riqualificazione dei sottoservizi ormai vetusti, una riqualificazione anche del manto della pavimentazione con una finitura più pregevole per apprezzare la fruizione di questa via. Il piccolo borgo alpino alle porte del capoluogo di mandamento di Morbegno si distingue per ordine e pulizia, grazie alla cura che gli stessi abitanti mettono nel conservare anche gli spazi verdi presenti in quasi ogni casa. È proprio dalle richieste dei concittadini che l'amministrazione ha scelto di dare la massima attenzione al sostegno di una buona qualità della vita. Cerchiamo di offrire una qualità di vita e di servizi sempre maggiore. Noi siamo un comune di 750 abitanti che riesce ad offrire ai suoi cittadini di servizi dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare. Per noi i servizi alla persona sono molto importanti.